Basandosi sul concetto che il tabacco contiene in sé un terribile veleno di cui ho appena parlato, bisogna assolutamente astenersi dal fuoco. Siamo qui stasera a Positano Teatro Festival con Paolo Graziosi. Stasera riceverai il premio Pistrice della città di Positano. Che cosa può raccontarci di questa esperienza che lei già sta vivendo da qualche anno qui con questa città bellissima? È inutile dire quello che tutti sanno, che questa città è una città meravigliosa, Positano è un luogo assolutamente impagabile. E anche l'amministrazione comunale, devo dire, che sta facendo veramente i salti mortali per continuare a sostenere il teatro, la cultura. E questo sta diventando sempre più raro in Italia. Lo sappiamo perfettamente che i soldi per la cultura sono sempre meno. E quindi il fatto che Positano e la sua amministrazione, il sindaco e tutti quanti, gli assessori, sostengono questa iniziativa diretta da Gerardo, da Andrea. E' chiaro che mi chiama anche se sto a Milano, mi devo precipitare o a Roma, che ne so, devo precipitarmi a venire. E godere anche di questo meraviglioso panorama, questa atmosfera che si respira in questo luogo. Lei nella sua lunghissima carriera ha lavorato con tantissimi registi, sicuramente avrà qualche esperienza da raccontarci. Però io vorrei che ci raccontassi in modo che fosse da sprone per i ragazzi che volessero intraprendere questo mestiere. Per incentivarli, magari anche se c'è qualche problemino, diciamo. Eh beh sì, oggi è chiaramente molto più difficile che alla mia epoca avere dei punti di riferimento. Insomma non ci sono più i giganti del teatro, del cinema, non c'è più Streller, non c'è più Visconti, non c'è più De Lullo, non c'è più Fellini purtroppo, non c'è più Antonioni. E quindi le scuole continuano a esserci e chiaramente quello è un punto di riferimento assolutamente imprescindibile per quanto mi riguarda. Non è una strada che permetta l'improvvisazione e affidarsi completamente alla fortuna. Sì ci vuole anche un po' di fortuna in questo mestiere chiaramente. Però bisogna lavorare sodo. Edoardo, Zeffirelli, Carlo Cecchi, Petre Stein, i miei punti di riferimento ancora di oggi me lo confermano. Bisogna assolutamente stringere i denti e cercare di concentrarsi sul lavoro, sullo studio, sulle opportunità. E sulle opportunità che piano piano, senza sollecitarle troppo, arrivano. Sono sicuro che arrivano se c'è veramente la stoffa. Graziosi stasera recita a Cieco. Ci può accennare questo omaggio che fa a Positano e all'autore stesso? Beh, ho voluto tenere in sospeso la performance che facciamo questa sera assieme a Elisabetta Rosio che mi ha sempre aiutato, sostenuto, anzi sta qua se la vogliamo fare entrare in campo. E' un tabacco famale. Tabacco famale. Ah, lo stai dicendo? Sì, 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 lo sto dicendo. Ormai siamo troppo vicini, insomma, quindi siamo... Teniamo in sospeso il finale che è un finale tutto rinventato sulla base appunto di questa input cecoviana e con l'ingresso in scena di Elisabetta con cui sono anni che sto lavorando e che anche lei ha frequentato molto Positano. Certo, adesso chiediamo anche a Elisabetta questa esperienza che lega il teatro a Positano e al festival in particolare. Beh, ormai è un appuntamento fisso per noi venire qua. cioè non possiamo mancare, infatti anche il prossimo anno dobbiamo assolutamente venire, non so con cosa, non so come però basta guardarsi intorno soltanto in questo terrazzo meraviglioso dove siamo col mare dietro, con le colline è un posto di incanto però c'è una persona che sta lavorando tantissimo perché questo festival arriva, che è Gerardo ora io non ho sentito cosa ha detto Paolo però grazie a Gerardo siamo qua e ci è saltato uno spettacolo che dovevamo fare si sapeva che dovevamo essere qui con la Camennone Progetti per il futuro, dove altro potremmo vedere che cosa state preparando, se potete anticipare qualcosa? Per quanto mi riguarda io ancora ho un progetto che dovrò fare però ancora non ne parlo scaramanticamente e per quanto riguarda lavori invece con Paolo abbiamo tanti sogni nel cassetto tante idee, tante cose è bello l'idea di poterle pensare è difficile il fatto di poterle attuare chissà, magari, non so, adesso ci penseremo cercheremo di vedere anche la fattibilità delle cose Io per quanto mi riguarda invece ho appena debuttato con un Riccardo II a Verona di Shakespeare con la regia di Peter Stein e verrà portato in tournée questo spettacolo per circa tre o quattro mesi e verremo anche a Napoli ed è, voglio dire, ed è uno degli spettacoli più interessanti a mio avviso della stagione con tanti nomi così alti come Shakespeare, Stein Stasera invece c'è il premio Pistici ad Paolo Graziosi Qual è il Firruge che lega questi artisti appositano appositano Teatro Festival? Io ho pensato nel momento che ho stessi il programma ho detto, ho preso all'inizio del secolo un dandy come Oscar Wilde che dall'establishment fu veramente massacrato sappiamo tutti come finì e dove finì in che povertà finì un uomo che aveva guadagnato ma veramente i miliardi in lire sterline di allora talmente povero che disse sul letto di morte tutti lo sanno, muoio come sono vissuto al di sopra delle mie possibilità ho dedicato questo Firruge a un terzo momento che è quello del requiem per due serve ispirato a tutto il mondo di Jean Genet altro, come dire, scrittore borderline altro scrittore marginato altro scrittore condannato per la sua omosessualità però, come dire, Genet fu fortunato tra virgolette perché Sartre, dopo aver visto e letto le sue opere scrisse un saggio intitolato Notre Dame de Martire questo saggio che era una petizione fatta al Presidente della Repubblica Francese fu firmato da tutta l'intelligenza europea il Presidente della Repubblica dovette concedere la grazia il Firruge di un discorso si concluderà domani sera con, sappiamo tutti, Jennifer di Annibale Ruccello non dobbiamo spiegare che cos'è Jennifer la nuova drammaturgia contemporanea almeno nella nostra regione è iniziata col teatro post-eduardiano e Ruccello ne è un meraviglioso, stupendo, incredibile partecipante consegnare la Pistrice che è il nostro segno di Positano uno dei nostri simboli in cui siamo veramente pieni stasera avete dimostrato tutta la straordinaria bellezza del nostro teatro napoletano in un giro